Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Simona Ventura si è aggiudicata una conduzione molto importante a settembre Vediamo insieme di cosa si tratta.Simona Ventura sta vivendo un momento magico e l'ultimo annuncio ha fatto veramente scalpitare gli spettatori Scopriamo insieme che cosa sta succedendo.Simona Ventura è una conduttrice famosissima e amatissima dal pubblico che ha girato quasi tutte le reti televisive Ancora oggi Super Simo è corteggiatissima dalle trasmissioni e dai reality Tutti la vogliono insomma, ma lei ha scelto di confermare la sua presenza assieme a Paola Perego in Citofonare Rai 2 e quindi la vedremo presto in onda sulla seconda rete della TV nazionale L'estate per lei è stata ricca di successi con il suo salotto culturale ideato da lei e Giovanni Terzi la terrazza della dolce vita a Rimini Lo spazio dell'avventura sulla costiera romagnola è fatto ricco di interviste e a volti noti dello spettacolo, della TV e della cultura Il programma si è concluso e ora Simona Ventura si sta godendo le ultime vacanze Proprio nelle ultime ore è arrivata una splendida notizia per lei, scopriamo di cosa si tratta Il tempo per la conduttrice si è davvero fermato, infatti quest'estate è apparsa bellissima e in splendida forma Nel mondo della TV Simona ha tantissime amicizie e in queste ultime ore l'annuncio ha fatto sognare il pubblico e sicuramente avrà suscitato qualche invidia fra le sue colleghe Super Simo infatti è stata scelta per condurre la partita del cuore, che torna in Rai e andrà in onda su Rai 2 il 7 settembre 2022 L'edizione l'anno scorso era stata scippata da Mediaset, stavolta però è l'avventura che toglie il posto alla Panicucci e diventa la prima donna del calcio italiano, lei che il calcio lo ha masticato per anni C'è già grande attesa per la manifestazione benefica a Spondo Solidale che vedrà la nazionale cantanti scontrarsi contro il Charity Team 45527 e si svolgerà a Monza presso lo Stadio Power La prevendita dei biglietti è aperta e come sempre l'evento susciterà un grande successo di pubblico Gli spettatori potranno partecipare con una piccola donazione durante la diretta Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video